buonasera ragazzi allora vi faccio vedere oggi come creare un banco prova con una batteria a 12 volts di una batteria semplice auto e allora qui abbiamo bisogno di due morsetti un positivo e un negativo e poi ho collegato dei normali fili anche da 46 già fanno abbastanza allora si collegano con dei capicorda al più almeno della batteria e ho fatto salire i fili qui un positivo lo potete lasciare libero qui io ho messo dello scotch nella punta per evitare di toccare la il tavolo perché ora vi spiego questo è il negativo è la massa e io l'ho collegata sotto il tavolo ora vediamo se si riesce a vedere l'ho collegata al bullone della mia morsa del banco allora perché questo perché la massa la prende quando io poggio direttamente l'oggetto che devo provare sulla morsa qui ho messo sempre collegato al con i fili più e meno del voltimetro l'ho collegati al positivo della batteria e al negativo sempre della batteria ad esempio se lo accendiamo possiamo vedere che la batteria in questo momento è a 12,9 volts 100 per cento perché questo qui è un voltimetro che dice anche la percentuale della batteria allora vi faccio vedere allora in questo momento il voltimetro segna 12,9 noi abbiamo direttamente la corrente visto si vedono le scindille perché perché la massa è collegata direttamente ai bulloni che che tengono la morsa sul banco e il positivo è direttamente che viene dalla batteria quindi abbiamo per questo la scindilla allora infatti qui la batteria è scesa a 12,8 ora poi man mano sale allora vi faccio vedere anche come è semplice accendere una lampadina provare un motorino di avviamento qualsiasi cosa che funziona a 12 volts allora in questo momento io ho stretto nella morsa una semplice lampadina a led 12 volts di un'auto allora questo è il positivo che viene dalla batteria questo rosso e la massa la prende direttamente dalla dalla morsa se io vado ad attaccare il positivo che viene dalla dalla batteria si accende la lampadina come potete vedere aspettate un attimo con una mano si accende perché perché la massa la prende direttamente dalla dalla morsa infatti la batteria un po' è scesa per la prova che ho fatto e niente questo qui è un semplice banco prova se volete se avete un tavolo con una morsa e volete provare una una lampadina qualsiasi cosa che funziona a 12 volts prendendo la massa direttamente dalla dalla morsa dove stringete lo l'oggetto l'apparecchio che dovete provare così non avete bisogno di di un trasformatore di usare la rete elettrica e trasformare la 220 a 12 volts per poter provare qualsiasi cosa se volete provare a 24 si aggiunge un'altra batteria quindi poi quando si scarica si carica con un normale e carica batterie da auto o un alimentatore da banco come quello che ho fatto vedere nei video precedenti e con senza consumando neanche la corrente elettrica di casa perché se avete un fotovoltaico io la carico durante il giorno quando ho i pannelli che sviluppano corrente quindi tutto diciamo gratuito grazie spero di essere stato utile iscrivetevi al canale